Se il trend attuale viene confermato, Rosario Crocetta sarà il nuovo presidente della regione siciliana. Con quasi un quinto delle schede elettorali già definitivamente scrutinate, la sua lista regionale è avanti a tutti gli altri e registra un 31,44%. A seguirlo sono nell'ordine Nello Musumeci con il 26,11% delle preferenze, Giovanni Cancelleri del Movimento 5 Stelle con il 17,544%, Gianfranco Miciche con il suo 14,997%. Infine c'è Giovanna Marano che di poco supera lo sbarramento regionale con 5,286%. Tutte le altre liste regionali non superano lo sbarramento del 5%.